Musica E' singolare che chi ha incentrato la campagna elettorale sulle transenne ora lamenti che ci stiamo occupando solo di ordinaria amministrazione. Così oggi il sindaco Fabio Termine replica le recenti osservazioni di Ignazio Messina. Una paziente da 13 giorni al pronto soccorso dell'ospedale di Sciacca è un esempio di ordinaria follia. Lo denuncia oggi il deputato regionale Carmelo Pace. La donna è costantemente assistita, replica il primario Ignazio Galizia. Nel frattempo proseguono, ma termineranno non prima della prossima primavera, ai lavori di ristrutturazione del pronto soccorso dell'ospedale di Sciacca e di realizzazione della camera calda. Un intervento da 1.300.000 euro. La morte di Salvatore Di Gangi, il boss di Sciacca travolto da un treno su un binario a Genova con l'accusa di abbandono di persone incapace, rischia di finire sotto processo il controllore che lo fece scendere dall'Intercity perché senza Green Pass. La crisi della pesca con il caro gasolio che ha solo aggravato una situazione già gravissima è per questo argomento al centro della nuova puntata di Vesper in onda da oggi sulla nostra emittente. Sport, calcio, impegno in trasferta per l'Unitas Sciacca contro la Leonfortese. Per i saccensi, l'obiettivo sono i tre punti per tenere a distanza le zone pericolose della classifica e avvicinarsi ai piazzamenti play-off. Benvenuti al nostro telegiornale. Singolare che chi ha incentrato la campagna elettorale sulle transenne ora lamenti che ci si sta occupando solo di ordinaria amministrazione. Così oggi il sindaco di Sciacca, Fabio Termine, rispetto alle considerazioni espresse nei giorni scorsi dal presidente del Consiglio Comunale, Ignazio Messina. E sul ricorso al TAR il sindaco di Sciacca dichiara spero che quando si chiuderà questa vicenda Ignazio Messina faccia finalmente il presidente del Consiglio Comunale. Ma ascoltiamo l'intervista. Mi viene un po' da sorridere sinceramente perché il presidente del Consiglio ha impostato una campagna elettorale sulle buche e adesso non gli interessa più che ci si interessi all'ordinaria amministrazione. Sceglie l'ironia il sindaco di Sciacca, Fabio Termine, per replicare al presidente del Consiglio Comunale, Ignazio Messina. Non è assolutamente vero che ci si sta occupando solo di ordinaria amministrazione e si sta portando avanti il programma elettorale che la città ha premiato, aggiunge Fabio Termine. In realtà io penso che si stia facendo tantissimo, non solo sull'ordinario ma anche sulla visione della città e stiamo semplicemente applicando e attuando il nostro programma elettorale che prevedeva di iniziare dal centro storico. Questo stiamo facendo, noi stiamo prevedendo degli interventi anche infrastrutturali che curino il centro storico dal punto di vista dei servizi e dell'arredo. Quello che succederà nei prossimi mesi è che ci sarà una revisione del parcheggio di Piazza Veneno Rossi che avrà l'introduzione del parcheggio con cassa automatica per chiaramente ridurre l'evasione e investire le somme che si introditeranno anche sulla rivitalizzazione del centro storico. Ci saranno anche i varchi per fare la ZTL e quindi regolamentare la fruizione del centro storico in maniera ordinata e senza avere la necessità di servirsi di unità di Polizia Municipale o anche ausiliari del traffico. E soprattutto ci sarà anche una cura verso l'arredo urbano. Noi abbiamo fatto un check su quanti cestini, per esempio, ci sono all'interno della città di Sciacca, ce ne sono 112, nei prossimi giorni ne arriveranno altri 73. Quello che vogliamo fare è proprio dare dei servizi alla città, quindi io non credo che ci si stia grattando i pollici. Probabilmente, e anche questo viene ritenuto ordinaria amministrazione, lui ha fatto riferimento ad esempio alla visione di città che implica uno sviluppo del turismo legato anche a un progetto importante come quello del porto turistico, al coinvolgimento degli imprenditori che hanno già investito in città o che possono venire a investire nella città, ai fondi del PNRR. Ma guardi, è chiaro, questa è una cosa che ci vede di pari passo, insomma. È chiaro che noi l'abbiamo detto anche in campagna elettorale, per esempio, che sui fondi del PNRR bisognava fare tanto, ma tanto era già stato fatto. Io ricordo che, per esempio, Ignazio Messina sconoscesse il fatto che il Comune di Sciacca aveva già presentato sette progetti sul PNRR. Questi sono sette progetti presentati alla vecchia amministrazione che noi stiamo continuando e che stiamo portando avanti, sempre per il principio di continuità amministrativa. Stiamo portando avanti anche progetti presentati da noi, perché su dodici progetti legati al PNRR, cinque sono di questa amministrazione, sette, otto sono della precedente amministrazione. Li stiamo portando avanti tutti. Ho sentito, per esempio, parlare di piscine comunali. C'è un progetto legato al PNRR di un milione e duecentomila euro sulle piscine comunali e mi sembra anche una cosa di notevole valore. Tra le cose che rappresentano la visione, credo che in campagna elettorale si è parlato tantissimo anche del complesso termale. Anche su questo c'è aperta una finestra importantissima con la Cassa Depositi e Prestiti che abbiamo inseguito facendo le corse durante l'estate, proprio quando tutti, anche negli uffici regionali, chiaramente erano in ferie, siamo riusciti a far presentare questo progetto. Ormai la cosa è nota a tutti che è stato proprio l'assessore e vice sindaco Gianluca Fisco a gestire personalmente questa cosa. Quindi credo che questa amministrazione in pochissimo tempo ha prestato tantissima attenzione ai servizi e alla cura dell'ordinario che credo che in campagna elettorale un po' tutte avevamo detto che doveva essere la base di partenza per poi costruire il castello e poi si è intervenuto su tutta una serie di cose che sono quelle che ho appena detto, ma anche tantissime altre che rappresentano la visione della città. Sulle termine, per esempio, noi siamo molto fiduciosi, a differenza del Presidente del Consiglio e riteniamo che abbia molte possibilità questo progetto di vedere la luce. Così può il sindaco a proposito del progetto di porto turistico e di dialogo con gli imprenditori. Proprio negli scorsi giorni ho incontrato anche un'azienda che si occupa di idrovolanti, che è interessata sul nostro contatto a investire su questo territorio, quindi noi sull'attività di portistica e quindi anche sul turismo legato al porto siamo molto attenti. Inevitabile un commento sul recente pronunciamento del Tarre rispetto al ricorso presentato da Inazio Messina. Ci tengo a dire che il ricorso al Tarre non è stato accolto, come è stato detto, è semplicemente stato ammesso. Quindi adesso si dovranno verificare le schede, probabilmente si potrebbe anche verificare che saranno ancora maggiori gli scarti, quindi dico questo anche per dare le notizie certe. Cosa succederà? Succederà che a un certo punto questo ricorso finirà, io mi auguro che quando finirà questo ricorso ci sarà un sindaco ma anche un presidente del Consiglio, perché la città ha bisogno anche di un presidente del Consiglio consapevole del ruolo che ha. Con il sindaco di Sciacca abbiamo parlato anche di sanità, così come delle manifestazioni natalizie e del carnevale. Potrete seguire l'intervista integrale nello speciale RMK Notizie che andrà in onda al termine della trasmissione Vesper e in coda ai TG serali. Cambiamo argomento, paziente da 13 giorni al pronto soccorso dell'ospedale di Sciacca, un esempio di ordinaria follia per il parlamentare regionale Carmelo Pace che oggi denuncia la vicenda. La signora è costantemente assistita, replica il primario Ignazio Galizia che entra anche nel merito delle regioni per le quali non è stata trasferita nel reparto di medicina. Monta un nuovo caso sul pronto soccorso dell'ospedale di Sciacca dopo la denuncia questa mattina del parlamentare regionale Carmelo Pace che ha definito una vicenda di ordinaria follia la situazione della signora Giovanna da 13 giorni al pronto soccorso del Giovanni Paolo II in attesa di essere ricoverata nel reparto di medicina generale. Chissà quanti giorni ancora dovrà aspettare, ha aggiunto Carmelo Pace, evidenziando comunque che questa situazione non riguarda solo Sciacca ma anche altri pronto soccorso della Sicilia. Non è questa la sanità che vogliamo, ha dichiarato poi il capogruppo della DC Allarsa annunciando di aver espressamente chiesto al suo partito e alla maggioranza di far parte della Commissione Salute per poter monitorare in prima persona la situazione della sanità siciliana e poter compiere quelle scelte che restituiscano dignità al paziente e possano colmare le carenze strutturali, organizzative e di personale. Tornando al caso della signora che da 13 giorni si trova al pronto soccorso dell'ospedale di Sciacca, il deputato regionale sostiene che se il reparto di medicina fosse tornato ad assolvere le sue normali funzioni sarebbe già stata trasferita, per cui ritiene necessario procedere immediatamente ad una riconversione degli ospedali Covid pur mantenendo spazi dedicati e soggetti positivi per evitare che pazienti affetti da patologie ordinarie rimangano per giorni al pronto soccorso o vengano dirottati in strutture ospedaliere spesso lontane, diverse decine di chilometri dal comune di residenza. Per Carmelo Pace inoltre è necessario rivedere tutta la rete ospedaliera siciliana, potenziare pronto soccorso e riaprirli laddove sono stati soppressi. Sul caso specifico è intervenuto stamattina il primario dell'area di emergenza urgenza del Giovanni Paolo II Ignazio Galizia per evidenziare che la signora non è stata ricoverata in reparto poiché lo stesso è interessato da una bolla di contaminazione da Covid-19. Tra l'altro, precisa Galizia, la paziente accusa patologie importanti e non può essere sottoposta al rischio di contaminazione. Noi, aggiunto il primario, non ci basiamo sull'ordine di arrivo dei pazienti ma sulla gravità della patologia, specie in una persona anziana, e si è stabilito di non trasferire la signora nel reparto di medicina proprio per tutelarla. La paziente, aggiunto ancora il primario, è costantemente assistita per ciò che concerne terapie, monitoraggio e assistenza igienica. Al pronto soccorso dell'ospedale di Sciacca, infine concluso il primario, abbiamo uno stazionamento medio del paziente che oscilla tra le 48 e le 72 ore al massimo e pur nella difficoltà logistica dei locali provvisori e attiva un'osservazione pre-intensiva che è un prolungamento della medicina dove il paziente è assistito in attesa del ricovero in reparto. E intanto proseguono, ma termineranno nella primavera del prossimo anno i lavori di ristrutturazione e di realizzazione della camera calda del pronto soccorso di Sciacca. Lo ha detto al nostro telegiornale il manager dell'ASP, Mario Zappia. Un investimento da 1 milione e 300 mila euro che punta a rendere l'area di emergenza urgenza meglio organizzata anche nell'ottica della decongestione del flusso dei pazienti. Risultato, quest'ultimo a cui si punta attraverso l'attivazione del pronto soccorso di Ribera. Vediamo il servizio. Sono tuttora in fase avanzata al Giovanni Paolo II di Sciacca come dimostrano le immagini che state vedendo i lavori di ristrutturazione dell'area di emergenza urgenza. Un progetto di rifacimento e rimodulazione del pronto soccorso che punta alla realizzazione della cosiddetta camera calda. In questo momento sono ancora in corso i lavori a Sciacca sul pronto soccorso. Che tempi possiamo immaginare? Siamo in linea con le previsioni? Sì, siamo assolutamente in linea. Dovrebbe essere pronto, ma i lavori stanno proseguendo in maniera lineare nella primavera del 2023. Quindi da qua a qualche mese potremo avere un pronto soccorso molto bello e funzionale. Stiamo parlando di una miglioria sicuramente significativa per l'ospedale di Sciacca per un investimento dall'importo complessivo di quasi 1.400.000 euro. Si tratta di un corposo investimento mirato negli intendimenti della direzione strategica dell'azienda sanitaria provinciale di Grigento ad incrementare l'efficienza e la salubrità degli ambienti di concerto con alcune prescrizioni rese tempo addietro dai nuclei antisofisticazione dei carabinieri. Prescrizioni che prevedono la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica per la camera calda, la redistribuzione degli attuali ambienti del pronto soccorso, oltre che il complessivo modernamento strutturale ed impiantistico. La camera calda è un'area riservata in cui il transito è consentito esclusivamente mezzi di soccorso in arrivo al nosocomio. L'intervento per il rifacimento del pronto soccorso di Sciacca si inquadra nella stessa prospettiva di riaprire anche il pronto soccorso dall'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera anche se non soprattutto con l'obiettivo di decongestionare gli accessi al Giovanni Paolo II unità operativa il pronto soccorso diretta dal dottore Ignazio Galizia. Funzionale anche rispetto al problema della congestione ma quello riguarda anche un problema gestionale di risorse umane nazionale però così come i cittadini chiedono con forza anche Ribera può contribuire ad alleviare sia per la medicina che per il pronto soccorso una volta che noi lo riattiviamo può sgravare un pochino Sciacca ma dobbiamo sempre ragionare in termini di ospedali riuniti. La morte di Salvatore Di Gangi storico boss di Sciacca travolto da un treno lo scorso anno su un binario ferroviario a Genova con l'accusa di abbandono di persona incapace rischia di finire sotto processo il capotreno in servizio sull'Intercity Notte la sera del 27 novembre dello scorso anno il controllore che aveva fatto scendere dal treno Di Gangi perché senza Green Pass Salvatore Di Gangi che aveva lasciato il carcere di Asti dopo che era stato scarcerato perché molto malato era diretto a Roma dove sarebbe poi salito sulla coincidenza che lo avrebbe portato ad Agrigento vediamo il servizio Per la morte di Salvatore Di Gangi avvenuta lo scorso anno su un binario ferroviario a Genova rischia di finire sotto processo con l'accusa di abbandono di persona incapace Domenico Tripodi 61 anni il capotreno in servizio sull'Intercity Notte la sera del 27 novembre dello scorso anno è questa la richiesta avanzata dal pubblico ministero Federico Manotti nell'ambito dell'inchiesta scaturita dopo il rimmenimento del corpo senza vita del boss di Sciacca avvenuto nella notte tra il 27 e il 28 novembre dello scorso anno il controllore di Trenitalia aveva fatto scendere a Genova Salvatore Di Gangi con regolare biglietto ma privo di green pass come prevedeva la legge in quel periodo non aveva avvisato la polizia ferroviaria nonostante la persona non in regola con la documentazione anti-covid avesse quasi 80 anni e si muovesse con l'aiuto di due stampelle sottovalutando anche il fatto che era quasi luna di notte Salvatore Di Gangi disorientato invece di uscire dallo scalo camminò lungo il binario 20 della stazione principe nella direzione sbagliata finendo dentro la galleria dove poi fu ritrovato senza vita colpito ha poi stabilito l'autopsia da un treno merci una morte che per qualche ora era rimasta avvolta nel mistero trattandosi dello storico capomafia fedelissimo di Totò Rina la prima ipotesi degli inquirenti fu il delitto mafioso dato che Di Gangi era appena uscito dal carcere di Asti dove era detenuto per scontare una condanna a 17 anni per mafia e da dove era stato scarcerato dalla Corte d'Appello di Palermo sulla base di una perizia che ne attestava deficit cognitivi e stava raggiungendo i parenti in Sicilia per motivi di salute avrebbe dovuto scontare la pena ai domiciliari con l'aiuto della polizia ferroviaria Ligure era stato possibile accertare che Di Gangi era uscito dal carcere di Asti nel tardo pomeriggio e a bordo di un taxi aveva raggiunto la stazione di Torino Lingotto spostamenti certificati dai filmati delle telecamere di videosorveglianza da lì l'Intercity Notte avrebbe dovuto portarlo a Roma Ostiense dove sarebbe salito sulla coincidenza per Agrigento invece il capotreno lo ha fatto scendere anzitempo e secondo l'accusa senza quel riguardo che avrebbe meritato un ottantenne cui era stato diagnosticato un deficit cognitivo abbandonava Di Gangi persona incapace per malattie e per vecchiaia di provvedere a se stesse della quale aveva la custodia temporanea fatto aggravato perché dall'abbandono derivava la morte della persona offesa si legge nel capo di imputazione con cui Manotti chiede il giudizio per Tripodi in un primo momento il fascicolo era stato aperto contro ignoti e per omicidio colposo ma le indagini non hanno permesso di stabilire con certezza quale è stato il convoio che ha trascinato l'uomo lungo i binari intanto la famiglia Di Gangi rappresentata dall'avvocato Cianferoni si costituirà parte civile contro Tripodi Trenitalia e Rete Ferroviaria italiana diamo atto che la procura di Genova ha condotto un'indagine greggia conclude illegale il giudice del tribunale di Sciacca Dino Toscano ha emesso sentenza di condanna infliggendo al Saccense Paolo Labella 37 anni la pena sospesa di un anno di reclusione l'accusa è di aver appiccato l'incendio che distrusse 6 ettari di bosco incendio che causò danni economici valutati in 7 milioni di euro dall'ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento Paolo Labella venne individuato dopo il rogo e considerato presunto responsabile dai carabinieri della compagnia di Sciacca che iniziarono subito le indagini investigazioni che consentirono di individuare con esattezza dove il fuoco venne innescato Labella ha sempre respinto le accuse e sostenuto di trovarsi lì per accudire un cane che si trovava in una struttura nella sua disponibilità i carabinieri sequestrarono alla Bella quattro accendini per i carabinieri il fuoco ebbe origine nell'area che era nella disponibilità dell'uomo e poi estesa per una vasta zona incendio che sfiorò alcuni palazzi condominali in prossimità del perimetro boschivo è una vasta operazione di polizia giudiziaria denominata Trinacria e condotta dai carabinieri ha interessato il territorio del comune di Petrosino durante la giornata di ieri il crescente allarme sociale generato dall'aumento di reati contro il patrimonio registrato nel corso degli ultimi mesi ha richiesto l'intervento massiccio delle forze dell'ordine che hanno dispiegato oltre 30 carabinieri operazione che si è conclusa con un arresto e 11 denunce oltre alla segnalazione in prefettura di quattro giovani per uso di stupefacenti l'uomo arrestato 47 anni dovrà scontare una pena di tre anni e mezzo di carcere per vari furti quattro indagati sono stati denunciati per guida senza patente e i mezzi in uso con i quali gli inquirenti sospettano siano stati commessi i reati sono stati sequestrati altri tre uomini con precedenti specifici sono stati perquisiti e trovati in possesso di Grimaldelli e Arnesi atti allo scasso due persone sono state segnalate all'autorità giudiziaria per furto di energia elettrica e infine un noto pregiudicato è stato denunciato alla procura per aver commesso quattro furti ai danni di abitazioni ed esercizi commerciali tra i denunciati un giovane è stato trovato in possesso di crack e marihuana e aveva anche allestito nel suo garage un presunto bazar di merce rubata in onda oggi su Telemonte Cronio la nuova puntata di Vesper l'approfondimento settimanale di Telemonte Cronio tema di questa settimana la crisi della pesca dove il caro gasolio ha solo aggravato una situazione già gravissima gli armatori e i pescatori per risparmiare sul carburante hanno iniziato a rinunciare ad andare a pesca il venerdì mentre il pericolo incombente è che approfittando degli imminenti contributi economici dell'Unione Europea sulle demolizioni buona parte dei proprietari preferiscano rinunciare definitivamente a questa attività il servizio di Massimo D'Antoni la crisi della pesca già grave ma ulteriormente amplificata dal caro gasolio rischia di annientare un intero settore produttivo è un grido d'allarme vero e proprio quello venuto fuori nel corso della nuova puntata di Vesper in onda da oggi sulla nostra emittente puntata che propone un focus su un settore che riesce ancora ad incidere malgrado tutto e non si sa ancora fino a quando sull'entità stessa del prodotto interno lordo saccenze oggi gran parte del ceto peschereccio probabilmente oggi anche il 100% non vanno più in pesca il venerdì perché preferiscono allungare qualcosina nei quattro giorni precedenti cioè dal lunedì al giovedì e automaticamente si fermano il venerdì non vanno in pesca cambiando le loro abitudini di lavoro un giorno meno significa un giorno meno di ricarica di carburante perché preferiscono aumentare magari di qualche di un'ora le giornate di pesca dal lunedì al giovedì e oggi per esempio i mercati il nostro mercato è senza pesce il venerdì e anche naturalmente gli altri mercati il rischio concreto è adesso che diverse imprese di pesca aderiscano alla nuova campagna per la demolizione dei natanti accedendo ai finanziamenti del FEAMP sono preoccupatissimo e ad oggi credo che come me quasi tutti stanno aspettando l'arresto definitivo e il bando della demolizione notizia degli ultimi giorni che è stato approvato il nuovo FEAMP dove all'Italia aspetteranno 517 milioni di euro e sulla base di quello verranno assegnate le risorse per le varie misure tra cui c'è anche la demolizione aspettiamo di capire come verranno redistribuite questi soldi per cercare di ridurre quanto più possibile i nostri impianti alla fine la conclusione qual è? perché se c'è di nuovo il bando per le demolizioni il maligno io non lo sono può dire ma non è che tutto questo è fatto per ancora una volta attaccare questo settore produttivo lei che cosa ne pensa? ma certamente sì quando mi si dice si aspetta allora si fa in modo tale da incentivare le imprese sì il rischio c'è ed è altissimo a demolire le imbarcazioni quindi con l'arresto definitivo noi pensiamo che oltre il 30% dell'attuale flotta peschereggia demolirà ma demolirà senza acquistare ulteriori imbarcazioni nuove non ci saranno imprese nuove non ci saranno giovani che si avvicineranno a questo settore e quei pochi che ci sono chi riesce a raggiungere l'età pensionabile va in pensione chi invece si vuole avvicinare a questo settore non si avvicina più a questo settore con l'assessore alle attività produttive Francesco Di Mino l'amministrazione comunale ha precisato di voler sostenere il settore da un lato condividendo le rivendicazioni di pescatori armatori nei confronti dei governi di Palermo e di Roma dall'altro puntando ad iniziative tese alle innovazioni tecnologiche attualmente ci sono i fondi PNRR che non possono essere usati integralmente per coprire l'aumento del caroenergia però una parte potrebbe essere usata per tamponare attualmente questo danno questa crisi momentanea e poi soprattutto per programmare una serie di interventi che possono rendere le nostre imbarcazioni anche dal punto di vista energetico più efficienti perché diciamo sono nati anche per le imbarcazioni di grossa portata di grossa portata per esempio i motori di idrogeno e quindi si potrebbe pensare dal punto di vista di scelte di scelte energetiche a livello nazionale di puntare sull'idrogeno per le imbarcazioni e quindi diciamo quantomeno spostare il problema dal carburante fossile petrolio al carburante fossile di idrogeno comprensibilmente col fatto che l'idrogeno attualmente ha un prezzo più basso però lei sa meglio di me che queste cose richiedono tempi di programmazione di un certo tipo qui il problema è veramente che siamo sull'orlo del baratro economicamente per un settore fondamentale Sciacca tra l'altro è scesa già sotto 40.000 abitanti da qualche tempo se continuiamo di questo passo scenderemo ulteriormente e questo credo che i comuni rispetto a questa situazione sul piano dei trasferimenti finanziari rischiano di subirne gravi conseguenze l'azienda idrica comuni agrigentini ha accolto la proposta del consiglio direttivo dell'ati e approvato l'atto di indirizzo con la clausola di immediata esecutività relativo al rilascio dei pareri propedeutici all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura senza oneri a carico dei richiedenti per i casi di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico fognario per le attività commerciali e per quelle che nel caso di variazione di intestazione subentrano ad un'attività già esistente ed autorizzata qualora non modifichino il ciclo produttivo e dunque la qualità e quantità degli scarichi fognari uno snellimento delle procedure che consente ai gestori di attività commerciali di risparmiare gli oneri per il parere propedeutico all'autorizzazione allo scarico e per il quale l'azienda consortile ha già prontato la nuova modulistica per la formulazione delle richieste procedendo così al rilascio del parere senza alcun onere a carico dell'utente in caso di cambio di titolarità rinnovo subentro senza modifiche dell'attività già esistente e i sindaci agrigentini hanno approvato un documento per esprimere netta contrarietà all'autonomia differenziata porterebbe evidenziano a un ulteriore divario tra nord e sud il servizio l'assemblea dei sindaci del libero consorzio di Agrigento ha approvato le variazioni al bilancio dell'ente l'assemblea si è svolta ieri nell'aula giglia del libero consorzio dopo che la scorsa settimana i sindaci avevano chiesto al commissario straordinario Raffaele Sanzo qualche giorno di tempo per approfondire la proposta elaborata dagli uffici oltre ad evidenziare le tante criticità che interessano il territorio a partire dalle disastrose condizioni in cui versano le arterie il prossimo bilancio ha dichiarato il commissario Sanzo sarà accompagnato e non presentato a ridosso delle scadenze di fine anno in modo da avere uno strumento economico ancora più efficiente che tenga conto della territorialità dei 43 comuni della provincia a questo proposito anticipato che si sta realizzando un monitoraggio capillare dei circa 1200 chilometri di strade provinciali al fine di disporre un quadro completo delle criticità e delle necessità l'assemblea dei sindaci ha poi votato l'ordine del giorno che il commissario Sanzo aveva sollecitato al sindaco di Santo Stefano Quisquina Francesco Cacciatore in relazione alla recente proposta del ministro Calderoli sull'autonomia differenziata che potrebbe portare ad un ulteriore divario tra nord e sud nell'attribuzione di fondi e finanziamenti il documento che sarà inviato ai massimi vertici istituzionali europei nazionali e regionali rappresenta il forte dissenso la contrarietà e la preoccupazione nei confronti delle iniziative nazionali volte ad ampliare i confini dell'autonomia differenziata chiede l'apertura di un vasto dibattito sulle conseguenze della riforma del titolo quinto della Costituzione e nel frattempo chiede anche di sospendere ogni discussione e decisione in ordine a forme di autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario il documento prevede altresì di richiedere al governo nazionale di non predisporre atti che prevedano trasferimento di poteri e risorse di altre regioni prima della discussione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e politici che devono essere equamente garantiti su tutto il territorio nazionale l'ordine del giorno è stato poi integrato e votato favorevolmente con la proposta del sindaco di Alessandria della Rocca Giovanna Bubbello con la quale si chiede l'attuazione dell'articolo 37 dello statuto della regione siciliana quello che prevede il pagamento delle imposte alla regione per le reimprese che operano nell'isola ma hanno sede sociale altrove e dell'articolo 38 sul fondo di solidarietà che lo Stato avrebbe dovuto versare ogni anno alla Sicilia ed anche il comune di Calamonaci ha aderito ufficialmente all'associazione nazionale città dell'olio obiettivo quello di promuovere l'oro verde del territorio e aprire ulteriori canali di esportazione e commercializzazione all'ex frantoio sarullo si è tenuto anche il biancolilla dei rivolto al principale cultivar presente in provincia di Agrigento il comune di Calamonaci ha aderito ufficialmente all'associazione nazionale città dell'olio con l'obiettivo di promuovere il pregiato oro verde prodotto sul territorio in provincia di Agrigento le adesioni ufficiali all'associazione sono già quattro oltre a Calamonaci vi sono anche i comuni di Luccasico da Caltabellotte e Bivona questa mattina il sindaco Pino Spinelli ha accolto al comune il segretario regionale del sodalizio Francesco Marino che ha consegnato la bandiera e la spilla città dell'olio e Vania Sarullo il referente comunale indicato dal sindaco che curerà i rapporti tra l'ente locale e l'associazione anche il comune di Calamonaci aderisce all'associazione nazionale città dell'olio con tanto piacere anche perché il nostro territorio sono presenti tanti tanti pezzamenti terreni tutte cortevate con con i nostri olive molto pregiate un ottimo olio che invade tutto il territorio questa adesione serve anche per promuovere appunto il vostro olio di qualità sì questa è una delle migliori mi è stata proposta devo ringraziare intanto il consiglio comunale e la mia giunta per avermi permesso appunto di aderire perché abbiamo tutto approvato anche in consiglio comunale l'adesione all'associazione nazionale dell'olio appunto perché il nostro territorio il nostro olio è di ottima qualità la vostra cultivare è Biancolilla sì la Biancolilla è quella che domina di più nel territorio una meravigliosa rete che si allarga in Sicilia sono 26 i comuni che oggi aderiscono più la camera di commercio della Sicilia orientale per cui questa associazione questo ente nazionale che in Italia annovera più di 400 tra comuni e camere di commercio anche in Sicilia inizia ad allargarsi continua ad allargarsi ci sono tantissimi nuovi comuni che chiedono di entrare all'interno della nostra associazione Calamonaci anche qui mettiamo la nostra bandierina in un territorio vocato in un territorio importantissimo da un punto di vista olivicolo nel panorama nazionale la lungimiranza di questa amministrazione di questo sindaco ma anche il lavoro che è stato fatto dalla dottoressa Vania Sarullo per esempio che oggi diventa referente comunale per le città dell'olio qui a Calamonaci un braccio operativo importantissimo per cui strutturarci organizzarci attraverso soprattutto i piccoli comuni come Calamonaci piccoli da un punto di vista diciamo di abitanti ma non meno importanti dal punto di vista agricolo rispetto ai grossi centri rappresentano per noi quei luoghi da cui partire per valorizzare l'olio d'oliva l'olivicoltura ma l'agricoltura in generale La stagione olearia è attualmente in corso in Sicilia come sta andando? Ci sono state delle problematiche? Sì le problematiche purtroppo sono tante anche voi avete documentato nei mesi passati le mobilitazioni le proteste degli olivicoltori purtroppo c'è una questione fondamentale l'agricoltura è un'attività economica e in quanto tale deve avere un'adeguata remunerazione per tutti gli operatori della filiera gli agricoltori quindi la produzione primaria in prima battuta ma poi via via la trasformazione la commercializzazione eccetera fino ad arrivare al consumatore finale i problemi di quest'anno li abbiamo conosciuti tutti dovuto a una congiuntura economica che ha fatto sollevare in maniera incontrollata i costi di produzione i costi energetici e i concimi per chi lavorava in campagna ma non solo quelli il gasolio agricolo tanto per citare alcuni esempi fino a poi arrivare appunto ai costi energetici per chi trasformava per cui c'è stato un escalation di aumento di prezzi di aumento di costi che ha determinato poi ad un certo punto un ingolfamento del sistema per cui l'annata da un punto di vista qualitativo per fortuna è andata bene noi abbiamo la fortuna di avere un clima perfetto per l'olivo noi possiamo produrre in maniera biologica naturalmente per cui la qualità del prodotto c'è è assolutamente indiscutibile dobbiamo riuscire ad organizzare ma in gran parte si sta facendo perché sono nate e nascono ogni giorno tante piccole e grandi aziende molto competitive che puntano sulla qualità ma allo stesso tempo dobbiamo proporre noi con le istituzioni con i comuni con la regione siciliana e con anche la città dell'olio tutti i presupposti per fare in modo che questo prodotto diventi remunerativo per gli agricoltori ma allo stesso tempo valorizzi anche il territorio nel suo insieme ringrazio il sindaco Spinelli per la stima e anche per la fiducia che ha avuto nei miei confronti affidandomi appunto questo ruolo di referente comunale che è un incarico che accolgo veramente con entusiasmo e che mi impegno a portare avanti nel migliore dei modi possibili oggi anche Calamonaci vuole giocare il ruolo da protagonista all'interno dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio e vuole essere anche un volano di sviluppo per il territorio un territorio che sappiamo connotato fortemente dalla coltivazione dell'olivo un territorio che quindi merita di essere valorizzato e oggi lo facciamo grazie agli strumenti che l'Associazione Città dell'Olio ci propone Dopo i passaggi di consegni ufficiali presso i locali dell'ex frantoio Salullo si è tenuta anche una interessante manifestazione denominata Biancolilla Day alla presenza di numerosi relatori si sono svolti momenti culturali e musicali approfondimenti degustazioni e abbinamenti gastronomici dedicati alla principale cultivar presente in provincia d'Egrigento l'iniziativa promossa dal fondatore Gaspare Sarullo e dai figli ha registrato la partecipazione tra gli altri di Massimo Brucato di Slow Food Agrigento di Francesco Lograsso capo panel IGP Sicilia e dello chef Saccense Giovanni Lorenzo Montemaggiore c'è anche l'ordine degli architetti di Agrigento tra gli enti che sono riusciti ad accedere ai fondi del PNRR finalizzati a promuovere l'uso delle piattaforme di identità digitale all'ordine agrigentino che aveva partecipato al bando lo scorso 6 agosto sono state assegnate risorse per un importo di 14.000 euro che saranno utilizzate per attivare un'area riservata all'interno del sito internet istituzionale alla quale gli iscritti potranno accedere tramite Speed e CE ed effettuare operazioni come la gestione dei dati anagrafici e professionali e l'accesso ai servizi online che verranno di volta in volta attivati questo consiglio afferma il presidente dell'ordine Rino Lamedola ha creduto sin da subito alle opportunità offerte dal PNRR investendo molte energie per fare in modo che le risorse stanziate per il nostro territorio venissero utilizzate nel migliore dei modi in tal senso sono già stati stipulati i protocolli d'intesa con il libero consorzio ai comuni di Grotte Montevago Racalmuto e Raffadali grazie ai quali sono stati banditi cinque concorsi di progettazione di interventi di rigenerazione urbana che saranno realizzati sul territorio provinciale per un importo complessivo dei lavori pari a circa 24 milioni di euro i volontari lav di Sciacca saranno presenti domani ad Agrigento in piazza Aldo Moro porta di ponte dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 alla mobilitazione nazionale per dire stop alle pellicce in Europa l'iniziativa si svolge oggi e domani in diverse piazze italiane con centinaia di volontari impegnati presso i punti firma allestiti per sostenere l'iniziativa adesso come di consueto la nostra rubrica culturale il libro del giorno all'inizio c'è uno stridio di gomme sull'asfalto un urto nell'aria e il suono di un clacson e subito dopo quello che sembra il concerto di un martello pneumatico lo studente alza gli occhi dal giornale e si volta nella direzione da cui proviene quel frastuono ciò che accade alle 9 e 2 del 16 marzo 1978 continua ad accadere l'attacco dura tre minuti ma saltare in aria in quel luogo in quel momento è l'italia intera Aldo Moro viene rapito cinque uomini massacrati riscritto il futuro del paese ecco perché dilatare quei minuti significa guardare il mondo con una lente diversa a intersecare i fatti pubblici è il racconto privato delle ultime otto ore di vita di Aldo Moro prima del sequestro il dio disarmato è un romanzo senza aggettivi storico politico filosofico lirico documentario nessun termine riesce davvero a definirlo è un libro che indaga nel profondo le scelte individuali e i disegni del destino il territorio e lo spazio urbano la sostanza del tempo il mormorio segreto della vita di un uomo tra i più importanti della storia d'Italia che quando tornava a casa si toglieva di dosso l'aggettivo politico per cercare di essere soltanto un uomo il dio disarmato di Andrea Pomella edito è in Audi ed infine la pagina sportiva calcio impegno in trasferta per l'unitas sciacca di scena Leonforte contro la Leonfortese per i saccensi l'obiettivo sono i tre punti per tenere a debita distanza le zone pericolose della classifica e per avvicinarsi ai piazzamenti playoff in chiave mercato di riparazione si comincia a guardare alla possibilità di prendere un attaccante e un esterno d'attacco impegno in trasferta per l'unitas sciacca che sarà di scena a Leonforte contro la Leonfortese la gara è valida come undicesima giornata del campionato di eccellenza girone A il calcio d'inizio è previsto alle ore 14.30 dopo la battuta d'arresto di domenica scorsa subita ad opera della profavara i neroverdi proveranno ad uscire da questo impegno con un risultato positivo possibilmente con la vittoria sia per avvicinarsi alle posizioni della zona playoff sia per tenere a distanza di sicurezza le zone più pericolose della classifica lo sciacca infatti ad oggi ha 16 punti e si trova esattamente a metà classifica ha 4 lunghezze di ritardo dai vertici playoff e con 6 punti di vantaggio rispetto a quella play out e rispetto appunto alla Leonfortese impelagata nella zona salvezza mister Totò Brucculeri ha chiesto alla propria squadra una prestazione convincente e di personalità proprio per uscire indenne da una trasferta che potrebbe rivelarsi insidiosa in chiave mercato in attesa che si apra la finestra invernale di riparazione i riflettori sembrano puntati sulla necessità di acquisire un attaccante con il fiuto del gol in grado di concretizzare la manovra offensiva ed un esterno d'attacco ruolo che fino a qualche mese fa ad esempio svolgeva egregiamente l'ex Messina passato poi all'oratore San Ciro e Giorgio di Marineo questo è il calendario delle partite in programma nel fine settimana oggi due anticipi Cus Palermo contro Marineo e Castellammare contro Parmanval domenica il resto degli incontri Enna ospita il Casteldaccia Leonfortese attende l'Unitas Sciacca città di Gela contro la capolista Acagas partita testa coda del Gironea Risuttana San Lorenzo ospita il Mazzara Don Carlo Misilmeri contro Nissa e infine il big match tra Mazzarese e Profavara con la Mazzarese prossima avversaria casalinga dell'Unitas Sciacca e per il momento è tutto io mi fermo qui grazie come sempre per l'attenzione arrivederci a